La tua rete vendita non cresce come dovrebbe, i tuoi dipendenti sono demotivati. La ricerca e la motivazione del personale sono fra i principali problemi che le imprese di tutto il mondo devono affrontare. Esigenza di un nuovo equilibrio vita-lavoro spinge le persone ad abbandonare le aziende nelle quali non si riconoscono più e coloro che cercano lavoro per la prima volta a non accontentarsi di un impiego qualsiasi. Allo stesso tempo però esistono aziende che godono di una grande attrattiva e reclutano centinaia di candidati con un semplice annuncio. Cosa distingue questa realtà da quelle che non riescono a trovare e trattenere i loro talenti? La risposta alla domanda è contenuta in questo libro, dove Massimo Rosa ha studiato e decifrato i comportamenti virtuosi delle organizzazioni che definisce calamite per talenti, distillandoli in un codice sorgente denominato il codice delle risorse umane. Seguendo il suo programma 30 giorni sarete in grado di apprendere ed applicare velocemente i migliori sistemi per reclutare, selezionare, assumere e motivare i vostri dipendenti ideali, trasformando la vostra attività in un'azienda del buon lavoro.